Spettacoli, percorsi del gusto per scoprire i sapori di casa nostra con angoli dedicati al cooking show e degustazione di prodotti locali, presentazione di libri di scrittori pugliesi e poi una silent disco, una discoteca ai piedi della cattedrale dove si ballerà al ritmo della musica, ma diffusa in cuffia. Ne saranno distribuite 600. Tutto questo e altro sarà la settima edizione della Notte dei Claustri, le tipiche piazzette di Altamura, presentata alla provincia di Bari e organizzata dal Comune e dal Galterre di Murgia. Appuntamento il 6 settembre, dalle 21 a notte fonda, ma con due eventi speciali, aspettando la Notte Bianca con location a sorpresa il 5 settembre e la Notte della Pace, il 9, entrambi alle 21. Tre le aree parcheggio gratuito predisposte, due con bus navetta per un evento che richiama migliaia di turisti che si tiene nel weekend clou del cartellone estivo della provincia Costa dei Trullion Tour. Durante la Notte dei Claustri infatti si esiberà Anna Tatangelo, mentre in contemporanea a Rutigliano si potrà vivere una serata di cabaret in compagnia di Pio e Amedeo. Il 7 settembre altri due appuntamenti da non perdere, l'attore comico Biagio Izzo a Capurso e James Taylor Quartet a Monopoli. Entrambi gli eventi saranno replicati il giorno dopo, il primo a Castellana, James Taylor a Gravina. Un'offerta a 360 gradi insomma, quella del brand Costa dei Trulli che sta riscuotendo successo. Segno, le parole dell'assessore Nuccio Altieri, che cultura e turismo sono gli unici settori in cui investire per aumentare il PIL. Non è un caso che negli ultimi cinque anni ad Altamura, grazie alla Notte dei Claustri, i posti letto siano diventati 800, praticamente raddoppiati.